Grazie Presidente. Comincio il mio intervento richiamando quanto detto ieri dagli inquirenti. Il Sindaco Virginia Raggi non c'entra nulla con l'indagine e gli atti del Comune non sono oggetto del procedimento. Quello che abbiamo letto oggi sulla rassegna stampa è qualcosa di vergognoso. Non c'è neanche una riga su ciò che sta accadendo alla Regione, neanche una riga sui giornali. Ci tengo a chiarire che il virgolettaro di stamattina riguardante l'imposizione della nomina di Lanzalone alla Sindaca è falso. E' falso. E' falso. Ed è falso. Ed è falso. Ed è falso. Consigliere Balucco. Ed è falso. Calmatevi, state tranquilli. Consigliere Raggi. E' falso. Ed è falso. Ed è falso come ha avuto modo di dichiarare agli organi di stampa la Sindaca e come ha comunicato a tutti voi capigruppo poco fa in Sala delle Bandiere. Per quanto riguarda lo stadio, questa amministrazione, secondo noi, dovrà fare tutti i controlli ulteriori alla luce degli eventi. Noi confidiamo nel lavoro della magistratura, il Movimento 5 Stelle è stato, è e sarà sempre dalla parte della legalità. Chi ha sbagliato dovrà pagare. Noi andiamo avanti a testa alta. Grazie.